Questa missione è importante, John. Ti voglio con me. Che ne dici? Ho già fatto il mio tempo. Che significa? Solo che ho finito di fare guerre. Mai il primo avversare del sangue. Lui contraattacca soltanto. La prima volta era per se stesso. La seconda volta era per il suo paese. Avanti, volaci! Questa volta... Rambo, cattive notizie. E per il suo amico. Trotman era un bravo uomo e mi dispiace immensamente. Lo avete abbandonato? Che cosa pretendo? Che si invii una squadra speciale per creare un incidente internazionale? E se andassi io? Dal tuo aspetto vedo che non hai nessuna esperienza di guerra, vero? Ho sparato qualche bordo. Ma se sarai catturato, negheremo ogni partecipazione. Negheremo perfino riconoscere. Non è una novità. Io so che è tuo amico. Ma questo non puoi farlo. Morirete tutti e due. Perché? Lui lo avrebbe fatto per me. No! Chi credi che sia quest'uomo? Dio! Dio avrebbe pietà. Lui no. Chi sei tu? Sono il tuo incubo. Stallo. Rambo 3. Grazie a tutti.